Buonazzoli Igor si accorna che stava arrivando da contro l'attaccante Ha controllato in modo Troppo Poco convinto il pallone Con troppa sufficienza E' arrivato Buonazzoli che gliel'ha tolto E' infilato in rete per il 2-1 della Salernitana Il gol di Buonazzoli Rivediamo il cross di Luceri Dopo lo scambio con Ribery Guardate Igor controlla Troppo ad un chanasse non bene Che dietro a lui c'è Buonazzoli Che ringrazia e in sacca Ottavo gol stagionale Per Federico Buonazzoli Che era sempre il suo primo gol in carriera Nella massima serie proprio contro la Fiorentina Quando meritava nella Sampdoria Nel settembre 2019 Ha segnato 8 gol In tutte le 6 stagioni precedenti Buonazzoli con le maglie di Torino Sampdoria, Spal e Inter E adesso fanno 8 anche quest'anno Sampdoria, Spal e Inter